meglio in ritardo che mai amici miei e insomma sono in vacanza però vedo tutti i commenti tutti li vedo anche perché non sono migliaia no però li vedo tutti e allora voglio dare una risposta a tutti allora fabio ponzana fabio ponzana mi ha fatto un commento su il video che ho fatto in martedì sto cazzo e mi viene a fare le precisazioni mi viene a fare le precisazioni vabbè insomma chi è curioso che vada a vedersi i martiri di sto cazzo ho parlato i martiri dei martiri di malaperta un repubblichino un repubblichino ha ammazzato uno del fascino intanto perché l'ha ammazzato scusami perché l'ha ammazzato perché l'ha ammazzato perché l'ha ammazzato e poi tu pensi questo era da solo poi sono arrivati quelli del fascio sono arrivati quelli del fascio e hanno ammazzato lui e tanti altri senza processo allora io mi sono rotti i coglioni di queste cose no ti do una risposta ma forse non la meriti neanche perché non colleghi neanche il cervello non collega il cervello ma secondo te c'ha ragione i partigiani secondo te c'avevano ragioni i partigiani o c'avevano ragioni i fascisti ma secondo te io sto qua a fare video per dire che c'avevano ragioni i fascisti o se tuo padre tuo figlio tuo nonno venivano ammazzati ma figlio ma collega il cervello mongoloide cioè veniva a farmi le lezioni di storia del cazzo vieni a farmi le lezioni di storia del cazzo ma lo sai che quando succedono le guerre succede la merda più totale la merda più totale cioè quelli erano cattivi erano cattivi perché invece i partigiani che cazzo hanno fatto hanno ammazzato la gente con i processi cioè ma che cazzo di commenti mi guarda non non lo meriti neanche ma siccome quando io vedo l'ignoranza quando vedo l'ignoranza io faccio i video e dico quello che penso perché quando uno viene sotto a dirmi una roba del genere dico va bene cioè se sei un comunista del cazzo sei un comunista del cazzo io non sono né comunista né fascista né comunista né fascista mi sta sul cazzo l'ignoranza e tu sei ignorante sei ignorante non so quanti anni hai ma se appena appena prendi una fazione dei comunisti o dei fascisti hai già sbagliato tutto nel 2024 non puoi più sbagliati ecco nel 2024 ormai ci sono talmente tanti segnali di non credere a queste stronzate e se mi viene a dire cioè questa secondo te quello lì che ha ammazzato il repubblichino come l'hai chiamato te quello era da solo era da solo sono arrivati hanno fatto pulizia etnica no come hanno fatto i partigiani esattamente uguale hanno ammazzato tanta gente i partigiani i buonissimi partigiani hanno ammazzato un botto di gente senza processo come hai detto te ma di che cazzo stiamo parlando porco zio ma questo è un canale ma vai via togliti dal cazzo se sei iscritto togliti non credo che tu sei iscritto non credo che tu sei iscritto ma se lo sei togliti dai coglioni ho bisogno di persone intelligenti questo canale ho bisogno voglio avere persone intelligenti non ho bisogno di nessuno detto questo forse faccio un altro video vici miei ciao